Oroscopo monetario di giugno per i segni zodiacali. Un saluto a tutti gli spettatori del nostro canale. Il primo mese d'estate è alle porte ed è un ottimo momento per guardare il tuo oroscopo monetario per giugno. In questo video vedremo quali segni zodiacali possono aspettarsi profitti e nuove opportunità per aumentare le entrate e chi dovrebbe prestare particolare attenzione alle questioni finanziarie. Ti forniremo indicazioni e consigli dettagliati per aiutarti a sfruttare al meglio le tue stelle di buon auspicio ed evitare potenziali insidie. Non perdetelo, perché utilizzando correttamente queste informazioni potrete rendere giugno non solo un mese piacevole, ma anche proficuo. Metti mi piace e iscriviti al mio canale. E cominciamo! Ariete. Giugno 2024 promette di essere un mese dinamico per l'Ariete, soprattutto dal punto di vista finanziario. La tua energia e iniziativa attireranno nuove opportunità per aumentare le tue entrate. Considera le offerte che richiedono un'azione proattiva e una risposta immediata, poiché è qui che risiede la tua forza. Tuttavia, è importante prestare attenzione ai dettagli dei contratti e degli accordi finanziari per evitare potenziali problemi in futuro. Investire in settori ad alta crescita può essere particolarmente gratificante, ma fai attenzione a non correre rischi inutili. Toro. Il toro dovrebbe aspettarsi un giugno stabile in termini di finanze. Il tuo abituale conservatorismo ti aiuterà a mantenere una posizione finanziaria equilibrata. Questo è un buon momento per iniziare a pianificare il budget e rivedere i tuoi investimenti attuali. Potrebbe esserci l'opportunità di investire in immobili o progetti a lungo termine che promettono un reddito stabile. Tuttavia, fai attenzione alle spese per il piacere e l'intrattenimento. L'estate può portare a spese impreviste. Gemelli. Giugno sarà un mese attivo per i gemelli, soprattutto nel contesto della crescita professionale, che influenzerà direttamente la tua situazione finanziaria. La tua capacità di adattamento e comunicazione tornerà utile quando concludi nuovi affari e trovi ulteriori fonti di reddito. Considera l'idea di lavorare come freelance o di avviare nuovi progetti paralleli. Questo è anche un buon momento per investire nell'istruzione e nello sviluppo delle competenze che possono aumentare il tuo valore nel mercato del lavoro. Tuttavia, dovresti evitare acquisti impulsivi che possono minare la tua stabilità finanziaria. Cancro. Giugno 2024 porterà una maggiore stabilità finanziaria per il cancro, soprattutto grazie alla tua lungimiranza e propensione al risparmio. Questo mese, la tua intuizione ti aiuterà a prendere decisioni importanti riguardanti investimenti e risparmi di denaro. Se stai pensando di investire nel settore immobiliare o di effettuare grandi acquisti, giugno sarà un periodo favorevole per tali passi. È importante però ascoltare i consigli dei professionisti e non fidarsi di offerte troppo vantaggiose, che potrebbero non essere così vantaggiose come sembrano a prima vista. Leone. I leone possono aspettarsi che giugno 2024 porterà uno sviluppo attivo della carriera, che influenzerà sicuramente un aumento del reddito. La tua leadership naturale e il tuo carisma attireranno l'attenzione dei superiori o di potenziali partner commerciali. Potrebbe esserti offerta la partecipazione a nuovi progetti o addirittura una promozione. Per sfruttare al massimo queste opportunità, cerca di essere aperto alle nuove offerte e non aver paura di prendere decisioni coraggiose. Tuttavia, ricorda di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata per evitare il burn-up. Vergine. Per i Vergine, giugno 2024 sarà pieno di opportunità per migliorare la propria situazione finanziaria attraverso un lavoro metodico e sistematico. La tua attenzione ai dettagli e la tua mente analitica ti aiuteranno a identificare nuovi modi per aumentare le tue entrate e ridurre le spese inutili. Questo è un buon mese per rivedere i piani finanziari, gli investimenti e i risparmi a lungo termine. Potrebbe esserci l'opportunità di investire nell'istruzione o nello sviluppo professionale che pagherà dividendi significativi nel lungo periodo. Fai attenzione ai grandi impegni finanziari ed evita gli acquisti spontanei. Bilancia. Giugno 2024 potrebbe essere un periodo di armonia finanziaria per la bilancia se continuerà a mantenere la consueta prudenza in materia monetaria. Questo mese è favorevole per rivalutare le tue spese e riconsiderare le tue strategie di investimento. Potresti voler esaminare investimenti a lungo termine in beni immobili o titoli. Grazie alla vostra capacità di stabilire contatti potranno nascere nuove proposte di collaborazione che potrebbero rivelarsi proficue. Tuttavia, evita gli schemi finanziari che promettono profitti rapidi senza sforzi visibili. Possono essere rischiosi. Scorpione. Per gli scorpioni, giugno può essere un mese di notevole successo finanziario, ma solo se sono pronti a prendere decisioni coraggiose. La tua naturale capacità di analizzare profondamente il desiderio di controllo ti consentiranno di identificare non solo i rischi potenziali, ma anche le opportunità nascoste. Questo è un buon momento per investire in progetti legati alla tecnologia o alla ricerca scientifica. Considera anche il rafforzamento della tua presenza sul mercato attraverso partnership strategiche. Tuttavia, fai attenzione a spendere troppo per i piaceri personali, perché potresti rovinare il tuo budget. Sagittario. Per il Sagittario giugno porterà un vento di cambiamento che potrà portarlo in paesi lontani o in nuove aree di business. Il tuo ottimismo e la tua sete di avventura si rifletteranno nella tua situazione finanziaria. Considera l'idea di investire in immobili esteri o in start-up di esportazione. La tua naturale capacità di vedere il quadro generale ti aiuterà a riconoscere investimenti redditizi a lungo termine. Tuttavia, assicurati di essere sufficientemente informato su tutte le sfumature prima di investire in porti significativi. Durante questo periodo è importante anche prestare attenzione al risparmio e non permettere che il proprio innato ottimismo porti a decisioni finanziarie avventate. Capricorno. Giugno 2024 per i Capricorno sarà il periodo in cui i loro sforzi e il loro lavoro inizieranno a dare frutti tangibili. I tuoi affari finanziari saranno stabilizzati grazie alla tua dedizione e disciplina. Questo mese è buono per investire nel settore immobiliare o avviare progetti di investimento a lungo termine. Gli aspetti planetari favoriscono grandi acquisti o decisioni legate al miglioramento delle condizioni di vita. La tua capacità di pianificare strategicamente ti consentirà di sfruttare al massimo qualsiasi opportunità finanziaria che ti si presenta. Acquario. Giugno porterà un'ondata di creatività in Acquario, che può aprire nuove fonti di reddito. Il tuo approccio innovativo e il tuo desiderio di sperimentare ti aiuteranno a trovare modi innovativi per aumentare il tuo potenziale finanziario. Questo è un ottimo momento per lanciare progetti, soprattutto quelli legati alla tecnologia, a Internet o ai social media. Tuttavia, fai attenzione alle iniziative finanziarie rischiose, soprattutto se comportano ingenti somme. Assicurati di essere pienamente consapevole di tutti i possibili rischi. Pesci. Per i pesci, giugno 2024 sarà un periodo in cui la loro intuizione naturale sarà particolarmente utile in materia finanziaria. Questo è un buon momento per investire in progetti legati all'arte, alla musica o alla beneficenza, che possono portare non solo soddisfazione morale, ma anche benefici materiali. La tua capacità di entrare in empatia e comprendere i bisogni degli altri può aiutarti a sviluppare un'attività di servizio clienti o di consulenza. È importante, però, restare prudenti nelle spese ed evitare impegni finanziari eccessivi che potrebbero rivelarsi gravosi.